21 settembre 2023 link Anastasia Kuzmina denuncia le molesti e i lupi li incontrano anche all'ufficio postale a mezzogiorno sessualmente molestato da un dipendente dell'ufficio postale a Roma è la denuncia soffocata sui social media da Anastasia Kuzmina ballerina ucraina e coreografa stella di ballare con le stelle per inviare un pacchetto il contatore mi chiede se riesco a tagliare i video e se posso aiutarlo spiega Kuzmina gli dico ok e lui mi fatti scandalizza tengo a malapena le lacrime mentre ricordavo lo shock di quei momenti quel giorno ero un peccato e sono scappato a casa martedì sono tornato indietro e ho denunciato cosa è successo al regista spesso scappava da queste situazioni questa è la cosa che mi dispiace di più concludendo le sue storie l'artista aggiunge i lupi non li incontrano solo quando sei ubriaco e spogliato alle due del mattino i lupi li incontrano anche all'ufficio postale a mezzogiorno e mezzo incontrali per strada con ancora leggero e hai sempre paura questo è ciò che molti non capiscono che una donna ha sempre paura